L'Associazione Italiana Cultura Qualità Sicilia, ICQ Sicilia, è un'associazione culturale senza fini di lucro. L'associazione nasce nel 2004 a Palermo per volontà di un gruppo di professori universitari, professionisti e uomini di imprese, con lo scopo di creare nel territorio siciliano un centro di riferimento per la divulgazione della cultura della qualità nelle organizzazioni. Le competenze dell'ICQ Sicilia riguardano soprattutto i sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'energia, i laboratori di prova e i settori alimentare, costruzioni, education, sanità e turismo. In quest'ottica l'ICQ Sicilia promuove convegni e seminari su temi e requisiti inerenti alle norme internazionali e nazionali sui sistemi di gestione. Non escludendo dalle analisi i più accreditati regolamenti tecnici di settore. Per approfondire gli argomenti, l'ICQ Sicilia organizza corsi di alta formazione, tra i quali quelli per acquisire la qualifica di auditor e lead auditor per le norme ISO. I docenti sono professionisti qualificati che hanno maturato un'adeguata esperienza specifica per ogni sistema di gestione. Il nucleo forte dell'ICQ Sicilia sono i soci, provenienti dal mondo dei professionisti e dalle organizzazioni presenti nel territorio siciliano, che condividono pienamente lo scopo e la mission dell'associazione. L'ICQ Sicilia, insieme ad altre otto associazioni territoriali regionali, fa parte di una federazione nazionale, dove elemento catalizzatore è la ICQ nazionale, fondata nel 1955 a Milano, che rappresenta la federazione a livello istituzionale italiano ed europeo. L'ICQ nazionale opera attraverso dieci comitati tecnici e dieci settori tecnologici. Qui si concentrano le principali attività di studio, mirate ad approfondire tematiche della qualità trasversali rispetto a tutti i settori merceologici. Nell'ottica di fornire un servizio completo in tema di qualità, va ricordata la stretta collaborazione con ICQ Sicilio SRL, ente accreditato che certifica attraverso l'iscrizione in registri le competenze dei valutatori di sistemi di gestione e di altre figure professionali. AICQ Sicilia, la qualità delle organizzazioni, le organizzazioni nella qualità.